C'è, prendono le reddite di battagli su che se questo arrivano, l'abbiamo fatta giuntere, com'è che non è più giurata? Purtroppo non lo stiamo andando qua, lo facciamo, non possiamo parlare da solo. Se non ci stanno altri interventi, però dopo la parolazione del carriamento, così come è proposto, che è favorevole, in avanti, per rimanere l'esabilità. Passiamo al posto. Terzo numero.